Il 15 aprile è la prima giornata dedicata al Made in Italy per difendere i prodotti agroalimentari, tutti i prodotti del Made in Italy ed è stata scelta perché è la giornata di nascita di Leonardo da Vinci, grande genio della tradizione italiana, genio di ingegneria, dell'architettura ma anche un vegetariano convinto che Leonardo da Vinci non mangiava carne ed era anche contro la caccia quindi che questa giornata del Made in Italy sia anche la giornata di sostegno all'ortofrutta, questa grande tradizione italiana l'Italia è il paese che ha la maggiore quantità di ricette vegane e vegetariane di tutti i tipi e di grande qualità da sempre quindi non ha bisogno di grandi cose strane ma uno spaghetto aglio e olio, uno spaghetto al pomodoro o la bellezza della nostra ortofrutta sono questi che andrebbero molto bene proprio a Leonardo da Vinci, quindi viva la giornata del Made in Italy dell'ortofrutta